Caterina Randucci e Claudio Orlandi. Questi sono i vincitori della 14esima edizione del concorso Canoro La Spiga d'Oro, gara di canto organizzata dai titolari del ristorante Il Granaio di San Pietro a Vico a Lucca. Dopo lo stop forzato e imposto dalla pandemia è ripartito anche questo concorso riservato da appassionati di canto di ogni età. Alla gara partecipano giovanissime e non solo, da 9 a 77 anni in questa edizione, suddivisi in due categorie, ma tutti uniti dalla solita passione per il canto e la voglia di trasmettere emozioni. Dopo le necessarie selezioni la gara è entrata nel vivo nei giorni del 5, 6, 7 novembre. Nelle prime due serate sono stati 20 i concorrenti che si sono esibiti per accedere alla finale di domenica 7. Come tradizione il concorso si svolge nella sala eventi del ristorante Il Granaio che da anni porta avanti questa iniziativa proprio con l'obiettivo di dare spazio a coloro che condividono la passione per il canto. Tutte le serate sono state condotte da Elisabetta della Santa assistita da Luca Paladini mentre la giuria era composta da Samantha Giorgetti, Giovanni Bianchi, Nuzia Fazzi, Valeria Lanini coordinati da Antonella Pera e da Fabio Ciardella. Alla finalissima sono approdati dopo le eliminatorie 12 finalisti e questi alla fine sono stati i vincitori. Spigadoro 2021 categoria junior Caterina Landucci con il brano Pillow Talk. Secondo e terzo posto per Cecilia Rabuscia e Ambra Saviuzza. Spigadoro 2021 categoria senior invece a Claudio Orlandi con il brano Guarda Stelle. Secondo e terzo posto per Mattia Pierucci e Riccardo Bartelloni. Guarda Stelle qua è un cielo di fiammele è un cielo di fiammele Grazie.